Bentornati ragazzi a questa nuova parte di Mario Sonic ai giochi olimpici di Rio 2016 Qui siamo con la seconda parte di Verso Rio, che è la modalità storia E ci eravamo lasciati con Cream ed Amy Ok, adesso andiamo alla prima palestra per allenarci in vista della sfida finale contro Yoshi Ah, bene! Sei qui! Ti aspettavo! Bisogna allenarsi molto per vincere la medaglia d'oro Scommetto che con un fisico come il tuo giocherà hockey e una passeggiata Alleniamoci un po' Passa più volte la palla al compagno per confondere il portiere e poi mira la porta Ok Ma i tasti? Ah, ok Usa il pad scorrevole per giocare Ok, bisogna soltanto muovere il personaggio Wow Beh dai, non mi sembra tanto difficile Nooo Dobbiamo fare più di... di tre punti E due E tre Ops Nooo Ma... non me l'aspettavo Dai, su E quattro Siamo primi comunque Forse possiamo farne ancora uno Vai dai, siamo andati molto molto bene Eh, ma... Vabbè È andata così Fine della partita Non siamo andati molto male in fin dei conti Sì, primo posto Perfetto Hai guadagnato nove punti allenamento e delle mele, novanta Siamo anche saliti di livello Ehi, hai un livello in più Continua l'allenamento come hai fatto finora È importante allenarsi tutti i giorni Qui ti puoi allenare nel salto triplo È un evento semplice Ma richiede molta precisione Corri lungo la pista e salta tre volte Scegli il momento con precisione per coprire una distanza maggiore Ok 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 Pronti Wow Bene Abbiamo fatto un super salto Pensavo fosse molto più difficile in realtà Bella, bella questa... Questo allenamento Molto bello Eccellente Sono sorpreso Che abbia ottenuto il primo posto così in fretta Sei molto abile Hai guadagnato nove punti allenamento e delle mele Non so se l'hai notato ma diventi sempre più forte Continua ad allenarti Ogni giorno Ok Yoshi, Yoshi Oh, ci sono dei nuovi abiti Che ovviamente non possiamo prendere Oh, sentite, io mi prendo questa Sembriamo dei turisti in vacanza però, vabbè Andiamo a sbloccare un personaggio Perché da quello che so Questi non sono eventi Uh, che cosa c'è qua? Wow Ma non posso utilizzarlo, credo Eh no, non posso Ma non ho visto I caschi Yoshi, per caso dei cappelli Ah sì che ce li hai Bello Bello Dai, il casco devo prendere Ah non posso Ah ma che cacchio Ora però così posso Dai, va bene così Non posso neanche usarli Cioè non possono superare un determinato numero di stelle I vestiti combinati Eh, questa è una cosa che non sapevo Va bene Che lo dico, eh Io corro più veloce di chiunque O di qualunque cosa Vuoi giocare ad acchiapparello? Mmm, no Vuoi gareggiare in uno speciale evento 100 metri? Sì Andiamo Io, tu e 100 metri plus Che ne dici? Stiamo per fare un evento plus Adesso così Senza che io l'abbia ancora fatto Per YouTube Oh Vai, 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 vai E abbiamo vinto È arrivato pochissimo dopo di me Non ho visto che arrivava dopo di me In diretta Loro avevano anche il fungo dorato per sprintare Io avevo soltanto Le pedane Di Sonic Quindi Avevo anche un leggero svantaggio Perché avevo una sola pedana Yeah Ok Abbiamo sbloccato Ruboniglio Wow Davvero wow Hai delle gambe magiche La prossima volta che vuoi fare una gara Fammelo sapere Sarò qui Va bene E ora siamo pronti per la finale Credo Spero La finale sta per cominciare Hai scelto l'abito e tutto il resto Allora vuoi cominciare la finale dei 100 metri? Sì anche se non ci siamo allenati abbastanza Però È il fascino della sfida insomma Ora sotto con la finale Farò il tifo per te Sono impaziente di affrontarti Avanti Avanti Con il mio casco Non so neanche se sia autorizzato Dai 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 E abbiamo vinto E abbiamo vinto Abbiamo fatto un tempo schifosissimo Però Fortunatamente Yoshi Si è dimenticato di giocare E quindi abbiamo vinto lo stesso Si ho fatto abbastanza schifo questa volta Devo essere sincero Però il primo posto è arrivato comunque Quindi va bene Yeeeh Col mio casco Ehi Tu con la medaglia d'oro Prestazione magnifica Corri così anche domani E vedrai che la tua collezione di medaglie crescerà Yoshi 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 Ho fatto del mio meglio E dato tutto me stesso Ma ho perso Yoshi 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 Ciò vuol dire che il tuo impegno È stato addirittura maggiore del mio Yoshi Yoshi In ogni caso La prossima volta che gareggiamo Sarò io a vincere A quanto pare Che il signor Sonic Non torna oggi Rido di no Io volevo parlargli Di una discussione Avuta con uno dei membri Della palestra di Mario Ah Non c'è mai Quando ne hai bisogno Storia di Sonic Giorno 1 Completato Ehi L'evento di oggi Il singolo di Tennis Tavolo Si svolgerà al Rio Centro Nel quartiere Barra Il primo passo È quello di arrivare in finale Perciò corri ad allenarti Ehi Sei tu che hai battuto Yoshi In finale Ieri Vero Non ci siamo ancora presentati Io sono Todd E questo È Luigi Siamo della palestra di Mario Se raggiungi la finale Affronterai lui Sono impaziente Di vedere una bella partita Oh mamma mia Bene ragazzi Penso che per oggi sia tutto Vettete un like se vi è piaciuto Un dislike se non vi è piaciuto Commentate e condividete Mi raccomando Per far crescere il canale Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Noi ci vediamo al prossimo episodio E non mi resta che salutarvi E spero di rivedervi presto Ok Ciao ciao Ciao